Musica Tanto occhio a Gnonte della parte opposta Prova a scappare via Ambamba Tocco dentro, molto intelligente Per Miretti Che in diagonale fa 1-0 Italia Combinazione perfetta Si può distendere l'Italia Sta arrivando Mulazzi Ambrosino attende il momento per servire al giocatore della Juventus Che va col cross morbido Colpo di testa E altra palla goal Stavolta con Casadei Al minuto 27 Tampoco più di due mesi Va Miretti Palla per il colpo di testa Casadei Stavolta non sbagliamo Ancora tanto spazio E puniamo il Belgio Proprio allo scadere Sul tramonto del primo tempo Un'altra disattenzione Fatale per la difesa del Belgio Passa alle spalle di Sandra Non c'è raddoppio Occhio a Gnonto Gnonto in area di rigore Dopo aver controllato Alza troppo la mira Attenzione a Miretti Che può sfondare La via Tiene botta Tiene botta anche Miretti Poi Casadei Sinistro ribattuto Nasti Non riesce a chiuderla con forza con il destro Tocca all'indietro per Goi Guarda il cronometro L'arbitro Non c'è più tempo L'Italia vola in Slovacchia L'Italia sarà Tra le fantastiche otto Alla fase finale dell'europeo Under-19